A trovarci negli studi di Radiofonica.com, il medio universitario dell'Umbria, Pier Federico Tedeschini, autore di un libro che oggi impareremo a conoscere. Stiamo parlando di Confessioni di un amore presunto pazzo, edito da Futura Libri. Allora, ci vuoi in breve, senza spoilerare troppo, riassumere di cosa parla questo libro? Ma semplicemente è un racconto, bene o male, della mia vita, che poi inciampa in un problema di salute e quindi un amore che alla fine risulta essere un amore vano e fugace. Allora, il protagonista è un ragazzo di buona famiglia, giusto? Se non ero anche di una famiglia piuttosto popolare, o comunque ben conosciuta, che si trova ad affrontare il problema appunto di rapportarsi con i sentimenti, con le persone alle volte sbagliate, no? E non rende secondo te più comodo evitare certi sentimenti, magari il fatto di essere appartenuto, di appartenere a una famiglia bene o comunque piuttosto ricca? Vedi, non vorrei fare qui la predica, diciamo, stile sacerdote in Confessione, però penso sia vero e incriticabile il fatto che purtroppo ci troviamo in una società priva dagli ideali politici a qualsiasi valore etico, non esiste più nulla. Quindi purtroppo basti pensare, senza offesa per i calciatori che spesso sono miei amici, eccetera, viviamo in un paese in cui Mario Balotelli è il presunto uomo più elegante del mondo, italiano più elegante del mondo. Ma non perché sia di colore ci mancherebbe altro, ma non penso a possegga la minima cultura. Probabilmente è molto bravo giocare a pallone, il quale sport non conosco lontanamente, ma viviamo purtroppo in un mondo, purtroppo per fortuna, non so se sta in evoluzione o in evoluzione, in un mondo in cui il nome o il conto in banca, letteralmente, conta più di qualsiasi altro livello per essere affascinanti o uomini di grido, diciamo. E da questo punto di vista viviamo anche in un mondo che è sempre più dominato dall'elettronica o comunque dall'evoluzione digitale. E io allora ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma ha ancora senso secondo te scrivere libri o comunque comporre musica? Ma questo guarda, io ho da qualche anno ormai amministrato un'etichetta musicale di produzione elettronica la quale ha prodotto anche nomi importanti a tutto nel famoso passaggio dal vinile al CD, dal CD al cosiddetto MP3. Sicuramente è più che uno sviluppo, presumo un inviluppo mediocre dell'arte in genere. Ormai, insomma, sicuramente sul libro quando mi è stato proposto puoi scrivere un ebook dalle stesse elettroniche musicali, io non per una questione di rifiuto, di dire no perché odio l'iPhone o per altro. Non so, in questo mi sento molto più tradizionalista e classista, diciamo. Quindi vedevo più, presumo che un libro, se un libro è una biblioteca, debba esistere una biblioteca, così come dovrebbe esistere una discoteca, per questo intendo non un posto per ballare, un posto enorme pieno di vinili, uno va in biblioteca e poi va in discoteca, affitta un vinile e si legge un libro. Forse sarebbe una cosa che potrebbe ancora far piacere, ma non so se Mario Barotelli faccia questo, non lo so. Glielo possiamo chiedere. Parlando di produzione musicale, ecco, la tipologia di produzione che tu fai è spesso etichettata come diversa, non ti senti da questo punto di vista un po' una pecora nera all'interno della tua famiglia? Su questo sicuramente io non ho seguito, forse, come dice mia sorella, non sono riuscito a seguire i passi dei miei antenati, diciamo antecedenti di famiglia, come dirsi voglia. Quello che so è che ho sempre potuto, per mia fortuna, seguire quelli che erano i miei gusti, forse sì, diversi dal commerciale, dal generico, diciamo. Quindi in questo sicuramente si parla infatti di un amore presunto pazzo. Ora non si è ancora capito se l'amore fosse presunto, la pazzia fosse presunta. Di certo forse la pazzia è molto semplice sentirsi del pazzo, eccetera, se tu suoni in un, la tristezza, tu suoni in un rave europeo, di carattere europeo e tutto, i giornali ne parlano, in Italia nessuno ti chiamerà mai a suonare. Ricevi un premio per la musica dall'Italia, ma tu non hai mai suonato in Italia. Quindi sei un pazzo, forse, forse non me ne vergogno, diciamo. Allora, una domanda che forse può sembrare scontata, però è direttamente collegata proprio al libro. Secondo te l'amore può essere comprato? Se sì, ha un prezzo, secondo te? Ora, non vorrei dire un prezzo preciso. Non so se poi le imposte sul valore aggiunto vadano contare. Sicuramente l'amore dovrebbe essere un valore, e quindi un valore forse aggiunto. Forse l'iva è un sentimento, si presume. Ma quello che è, tornando al discorso di prima, sicuramente sembra che l'amore abbia un prezzo, perché io non ho nulla a che dire contro chi fa moda, eccetera, ma insomma penso che non ci sia... In questo sì, sono vecchio, antico, classista, anziano. James Bond, presumo, sia effettivamente, non tanto la gente sera, ma quanto l'uomo più affascinante della storia del cinema. non c'è niente a che spartire con i calciatori da adesso. Cioè era un'altra generazione, non so, io in questo libro parlo molto, ad esempio, dei miei nonni che appartengono a quella categoria degli amori eterni di una volta, no? Al sentimento, al prima e dopo il matrimonio, cioè quello era un qualcosa che forse... Questa è un'età del tutto perso. Forse è un'evoluzione, forse è un'involuzione, non so che dire. Però sicuramente pare che purtroppo, e questa è una cosa triste, tutto qui abbia un prezzo. E purtroppo in Italia, chi ha possibilità di pagare certi prezzi, sono veramente pochi, ma siamo un paese in cui i nani e ballerine vincono su tutti. Siamo, presumo, i più grandi artisti di teatro. Se tu vai una sera in qualsiasi bar d'Italia a fare un aperitivo, trovi sicuramente quello che lo vedi, che è il più grande petrolio del mondo. In realtà, probabilmente, senza offesa per i cassi integrali, è un cassi integrale che non ha grandi possibilità, però lui ha il vestito del sabato, la macchina comprata con i soldi. Noi siamo tutto sull'apparire, sull'appariscenza, e questo probabilmente ci piace, quanto pare ci dà piacere, e quindi insistiamo in questa linea, pare. Chiuderei con un'ultima domanda. Qual è stata la sfida principale, no, qual è stata la sfida principale come giovane scrittore che hai dovuto affrontare per realizzare questo libro? Dunque, questo libro è nato in un momento particolare della mia vita per motivi, diciamo, di salute, eccetera. Stavo pubblicando un disco, una notte, era un disco e l'altro, l'ascoltare musica, ho preso carta e penna. Alla fine lo scrivo, penso sia un motivo di sfogo. Io per anni ho scritto, e ancora adesso scrivo spesso, su Lavanti, che è un giornale storico italiano al momento, anche quello, l'evoluzione o l'involuzione sociale, a voler non sia più cartaceo, ma sia un modernissimo giornale digitale. Quando chiunque abbia un minimo di cultura ricorda che Lavanti nasce dal cosiddetto proletario, che era un giornale scritto da tutti gli articoli dalla stessa persona, perché le alfabetizzate erano poche, purtroppo. Quindi spesso andavano lì dei cosiddetti socialisti, che è già un termine questo accusatorio e veramente pessimo per l'italiano corrente attuale, che dettavano le loro idee ad un personaggio che scrive questi articoli. Anche quello dice, come sei arrivato, ma io non voglio fare una questione politica, ma ho trovato, leggendo, per caso in biblioteca e il proletario, uno sfogo del popolo, cosa che a noi adesso manca totalmente, nel nostro paese, che mi ha, diciamo, affascinato, e quindi allo stesso modo ho cercato di sfogare le mie idee, scrivendo articoli, mandandone avanti, il quale avanti mi ha adottato come una delle sue penne, diciamo, più importanti. E allo stesso modo ho trovato un motivo di sfogo per una questione mia, personale, un mio accaduto di vita, eccetera, e nello scrivere questo libro, che poi per sfida mi sono sentito rimandare ai più grandi editori d'Italia e qualcuno mi ha accolto con piacere e poi pubblicandolo. E allora, noi vi diamo appuntamento, appunto, in libreria per questo fantastico libro, Confessioni di un amore presunto pazzo, di Pier Federico Tedeschini. Ti ringraziamo per essere stato qua con noi. Grazie a voi. Grazie a voi.